Ancora chef in tv! Ora ti sistemo io! Lo vedremo! Mandali tutti all'inferno! Vediamo ora cosa riesci a fare! Non vedo niente! Mi fai il solletico! Come faccio a lavorare così? Aiuto! Quattro chef, tre fide, 25.000 dollari a testa e la possibilità di spenderli per sabotare i rivali Questo è Cucine Diaboliche In prima visione assoluta lunedì alle 22 su Fine Middle Canale 49